Tutto pronto, partiti. All'interno per un attimo Bomario da Clodia, poi da largo Powell, che prova a prendere l'iniziativa. Powell è leader nei confronti di Bomario da Clodia, paura, che tira molto, quindi pari storia con a largo Orsini, o Mr. Booster. Bonkawa da Clodia con a largo Bonride. Quindi Boscaia paga da bere e in coda Ninetta. Si va sulla prima piegata con Powell in vantaggio nei confronti di Bomario. Allargo subito il favorito Orsini, che va in caccia del battistrada. Terza posizione per Paura. Quando i cavalli attaccano la rettopposta alle tribune, Powell è sempre in vantaggio nei confronti di Orsini, Paura e Bomario. Quindi pari storia Mr. Booster e Bomride. Questi sono i primi sette. I cavalli sono a metà della retta opposta. Powell che si mantiene in vantaggio e non lo perde di vista Orsini. All'interno di Orsini c'è Bomario, quindi paura richiesta. Con all'interno Mr. Booster. Quando si va alla piegata conclusiva, Powell che prova ad accelerare. Orsini che il provamento traccheggia in scia alla battistrada. Quindi Bomario da Clodia che sta perdendo terreno dai primi due. Quando si entra in retta di arrivo, Powell che è ancora in vantaggio. Orsini che si lancia all'inseguimento del battistrada. Poi più indietro Mr. Booster che prova a finire su Bomario da Clodia. Orsini che va all'attacco di Powell. Powell all'interno che prova la difesa nei confronti di Orsini. Powell all'interno, Orsini all'esterno. I due testa a testa, fin sul traguardo. Powell all'interno, Orsini all'esterno. Powell precede Orsini al terzo. Mr. Booster al quarto. Paga da bere. 13.96 all'ordine di arrivo ufficioso per quanto riguarda questa quinta corsa. Vince Powell in testa da un capo all'altro. Per i colori di Giuseppe Zedde, il treno di Luigi Micheli, Pasquale, Salis in sella. 5.40 alla quota.